Uno ciao scritto in stampatello, un nome, un cuoricino. Così gli amichetti di Francesco lasciano la loro firma e dicono addio al piccolo nel giorno del suo funerale. Francesco Mosconi, 4 anni, è morto lo scorso 19 dicembre in uno spaventoso incidente in cui è rimasto coinvolto mentre stava viaggiando in auto con la mamma nei pressi di Castiglion Fibocchi. Inutile purtroppo la corsa al Meyer di Firenze dove è morto poche ore dopo. La famiglia risiede a Laterina ma è molto conosciuta anche nei comuni limitrofi. A celebrare l'eseque nella chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano di Laterina c'erano infatti tre parroci, quello di Castiglion Fibocchi, quello di Laterina e quello di Quarata. Don Adriano Ralli, parroco di Castiglion Fibocchi, ha battezzato Francesco e sposato i suoi genitori Patrizio ed Elena. La famiglia non voleva fiori, ha detto dal pulpito, ma donazione all'ospedale Meyer di Firenze. Eppure i fiori che oggi sono qui nella nostra chiesa sono il simbolo della vita. Sono sicuro perché l'ho battezzato che Francesco avrà un'altra vita al di là di quella terrena. Tantissime le persone presenti che si sono volute stringere attorno al dolore della famiglia, tra queste anche Pierluigi Boschi e Katia Donnini, sindaco di Laterina che aveva proclamato tre giorni di lutto cittadino e fatto spengere tutte le luminarie di Natale. All'uscita dalla chiesa della piccola barra bianca, colorata da adesivi e da un'immagine di Batman, il supereroe preferito di Francesco, sono stati lanciati in aria tanti palloncini bianchi. Oggi il cielo ha un angelo di Natale in più, ha concluso Don Adriano.